Mercurio ha un'atmosfera sottilissima, e quindi completamente trasparente ai raggi solari, ed un ipotetico esploratore terrestre vedrebbe il cielo nero anche di giorno, così come appare dalla, l'un, punto, e con di eresi. Il disco del Sole immerso nel cielo nero apparirebbe molto più grande, e la radiazione solare sarebbe davvero potente. Per osservare il Sole da Mercurio, occorrerebbe una protezione adeguata per la pelle e gli occhi altrimenti in mancanza di un'atmosfera filtrante i raggi ultravioletti sarebbero letali. Su Mercurio ci sono escursioni termiche che vanno da più 430 gradi a meno 170. L'unico modo di scampare al calore sarebbe quello di dirigersi nelle regioni polari dove per effetto della leggera inclinazione dell'asse i raggi del Sole non riscaldano il suolo. Parecchi studi confermano presenza di ghiaccio ai poli. La cosa che colpirebbe ad osservare il cielo di Mercurio è il moto apparente del Sole. Infatti il giorno di Mercurio dura 176 giorni terrestri, ossia il più lungo fra tutti i pianeti terrestri, e giunti nei pressi della sua altezza massima, compie nel cielo una doppia inversione per poi andare a tramontare e riprendere il suo cammino diurno solo dopo una notte lunga 88 giorni terrestri. La linea chiamata Terminatore che delimita il giorno dalla notte non è veloce come quello della Terra, che viaggia a velocità di 1670 km all'ora. Il Terminatore di Mercurio viaggia a soli 3,6 km all'ora. Quindi anche un bimbo potrebbe camminare su Mercurio alla stessa velocità e camminare sempre nel giorno o nella notte e osservare sempre il Sole alla stessa altezza. Il secondo oggetto più luminoso nel cielo di Mercurio sarebbe Venere con una luminosità di meno 7,7. E poi il sistema Terra-Luna che apparirebbe come un doppio pianeta.